Kia rinnova la propria ammiraglia. Stinger, berlina filante sportiva nella veste GT e GT-Line, continua ad impressionare per performance ed estetica. Il restyling porta una nuova firma luminosa LED al frontale e posteriore ed altri piccoli ritocchi. Anche l'abitacolo ha subito un rinnovamento, pelle e dettagli cromati impreziosiscono il gioco di forme di plancia e portiere, con un sicuro effetto scenico. Le due versioni GT e GT-Line mantengono quasi inalterata l'estetica, ma la vera differenza si percepisce premendo il tasto di accensione. Una differenza di quasi 70 CV, valore non molto distante che va a sottolineare la vocazione sportiva di Stinger. L'accelerazione in entrambi i casi è poderosa. La rigidità del telaio permette di controllare al meglio la potenza della berlina coreana, esaltando le prestazioni dinamiche. Precisa e bilanciata in curva, nuova Kia Stinger vuole divertire su strada e in pista. Anche per questo sulla versione GT è disponibile lo scarico con valvola apribile, un vero regalo agli appassionati in grado di far ruggire al meglio questo V6. Nel complesso, quindi, nuova Stinger rimane una vettura che strizza l'occhio al segmento premium, con performance ed estetica in grado di impensierire le più famose tedesche, trovando il favore di tanti estimatori anche nel vecchio continente, dove però non viene commercializzata. a beneficiarne è il mercato americano.